Scusate Sindero, sono così così? Si, doi salserire. Sassare? And what's up! Sono io ragazzi, sono i J.I.M.I.W.S.L.E! Assetti a commenti sul mio YouTube per la Youtube! Begitu non Spirito di là? Noniesto, non Spirito è. E non lo conosco? Sempre sono dressi così. Ma io sono una mia dream girl. Conchia, è una sua sua! C'è una via! Abora a me! Ok, come! Sì, questo è solo il supporto. Sì, tol! Sì, tol! Ma come, tol? Come, 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 come? Come, 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 come? Sei, sei! No, tol. Ma come, ma come, dove si può vedere, dove si può essere conoscente. E'y tipo che si può essere una persona che sia. Che è molto più, tol. È molto più? Sì, è molto più, perché è molto più forte. È molto più in social media. e questo è semplice. E questo è proprio quello che ho fatto. Allora, tu è libero l'amore. Però l'amore di quello, nasa l'amore di quello, non lo so che non lo so, non lo so, lo so, poi lo so, l'amore di quello. L'amore di quello, l'amore di quello. L'amore di quello, l'amore. L'amore di quello, come la mia, la mia storia è il proprio tutto. L'amore di quello che ha fatto, tu è quello che mi sono. La storia, tu è la storia. Ma è la storia, non lo so, non sono anche una storia. La storia, non lo so, la storia, non lo so. Sì, ora! Sì. Ma vi, visse, per l'ora ci siamo arrivati. Oh, andiamo! Andiamo! Noi! Oh, andiamo! E! Andiamo! Tisha! Eh, sorry, sorry! Ah, wait! Se vuoi, se vuoi una stagione? C'è un'accommodo. Rappai TV? Subscribe! Qu'è tutto? Quindi, qu'è il contenuto? D'accordo, che ci sono un contenuto di Jojo Y? Qu'è il contenuto di più? Oh, tu ti è Marvie Tisha? Qu'è il suo? Qu'è il suo? Qu'è il suo? Qu'è il suo? Qu'è il tuo contenuto? Qu'è il contenuto? Opo, figlio! C'è un'amplice! C'è un'amplice! Ano? 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 So, aro, no? Once I've seen you, ma Caraphin. RaphinTV is back again for another video. Carap, comus'n? Ah, è quello che il motovlogger che hanno giugato di Fifa e Unegu di Cut Food Dog Burger e Sticker? Ah, quello che ha detto? Oh, è quello che è? Non ho il video, ha? Ho, ho. Ha, è quello che ha detto? Sì! Hey! Murphy here! And I'm having another video! Yes, sirs! Ah! Come pala yun? Yung sabi nilong member na wala pang absent sa mga palm jam? Dipit mo to, ha? Galing yan! All right! Come pala yun! Ha? Siya nagsmile. Oh, ikaw naman daw, Curbs! Ako? Yo! Yo! What's up sa mabilagpala? What's up, mga kagop? New names! Ah! Ikaw po yung ano, cyclist na naparad ko po sa unang hirit sa GMA! Totoo ko! Ay, hello po! Ay, picture po tayo mamaya! Yes, sir! Hey! My name's Athea Mabie Salazar and welcome back to my YouTube channel! Ah! Ikaw yung magaling magpaint, magportrait na Steve Pomorma na pagkakaiba ng kulay ay, nagpapaiba ka lagi ng kulay na maliit pero magmagsalita parang lalo ng kausap tapos nakasulat dito nakalabtim ni Wesley ay! ngayon sa film na to! Wesley? Bakit? Sino ko ba? Hmm! Subscriber brand! Ako subscriber dito! Subscriber? Naayong subscribe! We'll take kayo ah! I'm afraid ko kayo! Oh! Diyos! Ano si Wesley? Hello! Cameraman! Why bambihira? Ano ba eh? I-picture na dito! Picture picture na nga! Kami naman picture ron mo tol! Ika na dito! Kaya tol! Sunod ako! Sunod ako! May bila ako ng kotot na blue maman Oh! Yan naman na si Wesley! Ay! Kasi siya lamang tols! Ang dokumenta ka busy ako eh! Pagbihira ka naman tol! Kalina pa kami naghihintay dito! Chat kami ng chat siya! Wala akong reply! Inawag na rin kita kanina! Picture ka na picture dun! Wala naman din yung pangarap mo! Baka yung dream girl mo nandito! Ha! Di mo alam! Sana nga to! Sana naman! Malaya na ikaw na pala! Ang matagay ko na! Simula nang nagkasalubong ang aming mga mata! Halos di na maimpinta! Sa aming mga muka! Yung kaba! At umaabaw na saya! Sinubo kang baliwalain! At isipin hindi interesado sa isa't isa! Pero kung tinamaan ka nga naman talaga! Wala ka nang magagawa! Alam mo! Di ko namang inaasahang mahulog sa isang kagaya niya! Pero sino ba namang hindi mahulog? Sa mga ngitian niya! Sa mga kilos! At warmahan niya! Diba? Sobrang... Ano yun? Pero walang wala ang panlabas niyang kaanyuan Sa mga bagay na nagustuhan ko sa kanya! Yung ugali niyang di mo maintindihan! At kakaiba! Kaya salamat! Salamat sa sarili ko dahil minahal kita! Salamat dahil dumating ka! Mga mahal kita! Sa buhay, may mga bagay talaga na di natin inaasahan! May bigla na lang aalis! Pero meron namang darating! May bigla na lang mawawala! Pero meron din namang kapalit! May bigla na lang ang pera! Pagkain at syempre mga kaibigan! Ito ang pinaka the best part! Yung di mo inaasahan darating na pag-ibig! Pag-ibig na alam kong hindi hindi na mawawala! At dito na nga nagsimula ang aming love storm! Ang pinamagatang unexpected love! Kaya ikaw, kung single ka, kumalma ka lang! Tama yung ginagawa mo! Tumawa ka lang! Mag-enjoy ka lang! Gawin mo yung gusto mong gawin! Kasi, alam mo, hindi naman talaga kailangan ng relasyon para maging masaya! Ikaw lang ang may hawak ng sarili mong kasayahan! Hindi ibang tao! Lagi ko sa'yo itong sasabihin na mahal kita Mahal kita Ang love na yan, dating din yan sa tamang panahon At alam kong gagawan ka ni God ng magandang love story Kapit ang isang matican ang isang paglalaman ு Tama maraming matang Bawag di!" E'yo ito sasabihin Na mahal kita Mahal kita L'argo sa'yo E'yo ito aawitin Mahal kita Ma L'argo sa'yo Grazie a tutti.